Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, qui da Arcamatta che vi parla ragazzi e oggi siamo tornati qua con una nuova classifica, ovvero i 10 acquisti più costosi della Juventus vi ricordo che questo video è in collaborazione con Peter26, vi lascio il suo canale qui sotto in descrizione lui farà i 10 acquisti più costosi del Napoli e quindi io direi di cominciare ragazzi decima posizione, qua mi sono scritto una mia classifica, decima posizione Marco Di Vaglio ragazzi Marco Di Vaglio appunto ha pagato 26 milioni di euro nel 2002, ovviamente era nel succo dell'asse di mercato che nella stagione precedente aveva portato a Torino Marco Di Vaglio, Marco Di Vaglio è arrivato appunto dal Parma ha acquistato per 26 milioni di euro dando come contropartite il cartellino di Brighi dando il cartellino di Brighi e giocò a Torino due stagioni segnando ben 28 gol quindi decima posizione per Marco Di Vaglio, nona posizione invece ragazzi per Alexandro Alexandro acquistato per 26 milioni di euro, acquistato nell'estate scorsa a pochi giorni appunto dalla fine del mercato la Juve gli è venuto una cosa così, ha detto prendiamo questo terzino sinistro all'inizio era partito molto ma molto male ma poi ha preso proprio il decollo e adesso un terzino veramente che vale tantissimo comunque preso appunto dal Porto per ben 26 milioni di euro Alexandro giocò appunto nella prima stagione a Torino 32 gare e due gol comunque per un terzino è molto buono ottava posizione invece ragazzi per Diego Diego che ricordiamo l'ho messo nella classifica dei 10 flop della Juventus Diego appunto, cioè pure oltre ad essere flop è stato pagato molto Diego appunto ha pagato ben 27 milioni di euro l'unico vero e proprio flop in bianco o nero come ho detto precedentemente comunque venne acquistato dal Verder Brema nel 2009 per ben 27 milioni di euro e comunque poi si fa una stagione veramente disastrosa infatti l'anno dopo viene ceduto al Wolfsburg per ben 15 milioni e mezzo di euro quindi ottava posizione per Diego comunque voi vedete le immagini apparire sotto settima posizione ragazzi abbiamo Emerson Emerson ricordiamo Emerson che nell'estate del 2004 fu il colpo il colpo veramente bianco o nero perché comunque venne strappato alla Roma per ben 28 milioni di euro comunque il Puma giocò per due stagioni al Torino perché poi quando passò al Real dopo quando la Juve era retrocessa in Serie B cioè almeno se tu veramente sei attaccato alla maglia puoi andare pure in Serie B va bene comunque ormai non c'è più attaccamento alla maglia Sesta posizione ragazzi invece per Milalem Pjanic attuale ancora giocatore dalla Juventus acquistato per dalla Roma l'estate scorsa 32 milioni di euro non saranno contenti i diffusi romanisti ma comunque fu il centrocampista classe 1990 fu acquistato dalla Juve per ben 32 milioni di euro comunque se non è poco perché alla fine secondo me questo giocatore vale più 40 milioni però comunque ragazzi pensate un po' che Di Bala 12 mesi fa fu acquistato solo per 32 milioni di euro che secondo me qua vale più di 100 milioni comunque ragazzi quindi sesta posizione per Milalem Pjanic quinta posizione invece ragazzi proprio l'attaccante la Juve ragazzi Paolo Di Bala Paolo Di Bala appunto ha acquistato per 32 milioni di euro dal Palermo il Picciriddu ragazzi il Picciriddu che appunto per 32 milioni di euro comunque che adesso che la Juve lo corteggiò molto ai tempi del Palermo e adesso appunto con Gonzalo Higuain formano una coppia devastante infatti la chiamano la coppia HD quindi quinta posizione per Paolo Di Bala tra gli acquisti più costosi quarta posizione invece ragazzi per Pavel Nedved Pavel Nedved acquistato dalla Juventus per 41 milioni e 200 mila euro l'estate del 2001 fu quella dei trasferimenti record per la Juventus dopo appunto che con i soldi ricavati dalla cessione record di Zidane a Real Madrid acquistò Buffon, Turam e Nedved formando se possibile una rosa ancora più forte rispetto a quella in cui giocava il francese quindi comunque dopo la cessione di Zidane si sono presi Turam, Nedved e Buffon e quindi la roba si è rinforzata vedi se tu c'è di un giocatore a tanto ragazzi alla fine puoi farti una grande squadra terza posizione infatti come ho detto Lillian Turam Lillian Turam acquistato dalla Juventus per 41 milioni e mezzo di euro Lillian Turam passò dal Parma alla Juventus solo un paio di giorni prima di Gigi Buffon per la cifra di 80 miliardi delle vecchie lire all'epoca il più costoso trasferimento per un difensore centrale non voglio giocare poi in Serie B dopo appunto il Calciopoli quindi se ne andò al Barcellona cioè lui dopo che successe il casino della Juve con la Serie B e il Calciopoli lui chiese di retrocedere e quindi Lillian Turam è acquistato per 41 milioni e mezzo quindi terza posizione per Turam seconda posizione ragazzi per il nostro capitano per il nostro capitano Gianluigi Buffon Gigi Buffon acquistato dalla Juventus per 52 milioni e 888 mila euro dopo oltre i 15 anni è ancora lui il portiere più pagato al mondo nell'estate del 2001 passò assieme a Lillian Turam come ho detto precedentemente dal Parma alla Juventus per 75 miliardi di lire più il cartellino di Bachini valutato 27 miliardi del vecchio conio quindi comunque Gianluigi Buffon è rimasto alla Juve sempre stato attaccato alla maglia prima posizione ragazzi eccola qua si non di chi di lui ragazzi che nell'estate scorsa ha fatto molto ma molto scalpore questo suo trasferimento sto parlando di Gonzalo Higuain che i difusi napoletani adesso non saranno contenti vabbè prima posizione per Gonzalo Higuain acquistato dalla Juventus dal Napoli per 90 milioni di euro il terzo trasferimento più costoso di sempre il primo tra due società italiane infatti tra il Napoli e la Juve perché comunque Aurelio De Laurenti aveva messo la clausola di 90 milioni che Marotta tranquillamente ha voluto pagare e quindi Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore della Juventus quindi ragazzi questa era la mia classifica riguardante gli acquisti più costosi della Juventus ricordo che questo video in collaborazione con Peter26 vi lascio il suo canale qui sotto in descrizione lui farà i 10 acquisti più costosi del Napoli e quindi ho detto tutto ragazzi noi ci rivecchiamo ad un prossimo video bella rega forza Juve grazie a tutti grazie a tutti